Il 10 marzo, ad Alessandria, in Piemonte, scoppia un'insurrezione che raggiunge la capitale, Torino. A guidarla è il conte Santorre di Santa Rosa, esponente dell'aristocrazia liberale moderata. Anche qui i ribelli chiedono la Costituzione di Cadice. Il re, Vittorio Emanuele I, abdica in favore del fratello, Carlo Felice, che però si trova fuori Torino. La reggenza è quindi assunta da Carlo Alberto, che concede la Costituzione. Al rientro di Carlo Felice, però, la carta viene revocata e gli insorti si scontrano con le truppe austriache nella battaglia di Novara. È l'8 aprile 1821. In Piemonte si ripristina l'ordine e Santa Rosa fugge in Francia.